Pronto, pronto, è la polizia, mi faccia parlare con qualcuno, la prego, è urgente. Che cosa? E si aspetta davvero che io creda a una storia del genere? Ma per chi mi ha preso? Spiacente, ma non ho tempo da perdere con i visionari. Aspetta! Aspetta! Coder! Pronto, casa Sherwood, Sherwood, Sherwood. Che cosa? ...a quella villa. Sì, signore. Aspetta! Non voglio che si pensi che la polizia dia importanza a la polizia e pertanto ci recheremo su un mosto a sirene spente. Sì! Aspetta! E' un'ottima idea. E' un'ottima idea.